Ciao a tutti, popolo del tubo, e benvenuti in questa nuova anteprima, in questa nuova versione beta, in questa nuova demo. Oggi vi porto Deconstruction Simulator. Credo che sia proprio il gioco adatto a me, perché io sono un distruttore, e quindi un gioco dove devi andare a distruggere, e beh, ragazzi, lo vedo veramente adatto a me. Io ringrazio gli sviluppatori per avermi concesso questa anteprima playtest, quindi andiamo a giocare una versione non completa, ovviamente, del gioco, ancora in costruzione, che probabilmente durerà anche poco, è una specie di demo, però ci potrà far fare un'idea su questo gioco. Questo gioco che trovate su Steam, anche voi potete diventare playtest se fate richiesta, insomma, c'è la possibilità di fare richiesta. Allora, andiamo, andiamo a vedere in cosa consiste. La demo attualmente è solo e tutta in inglese. Qui, vabbè, è scritto tutto in inglese, credo che devi distruggere dei posti e poi rivenderti, da quello che ho capito, è rivenderti poi i materiali per fare i soldi. Allora, questo è il nostro ufficio, questo è il nostro ufficio, che è qua? Un monitor. Allora, accetta un contratto dal tuo ufficio. Quindi noi ragazzi siamo all'interno di questa specie di roulotte, di roulette. No, ok, la roulette è quella che c'è punti i soldi. Ah no, è un magazzino. È un magazzino. Questo quindi è il nostro magazzino. Noi siamo all'interno del nostro ufficio, nel magazzino, e qua si accettano i contratti. Allora, Tools Market. Ok, i contratti. È un po' come House Flipper, no? Che c'erano i contratti sul PC. Accettiamo il contratto. E si va via. Si prende il contratto, si va via. E dobbiamo andare nella zona del contratto usando il camion, da quello che ho capito. Ah, ok. Sapete che era così? Non mi ricordo qual era il gioco che era così, che dovevi salire sul camion, il camion faceva da teletrasporto. Non mi ricordo. Però vedete? Non è che esplorate proprio la città. Avete semplicemente a disposizione sto camion che vi fa da teletrasporto. Allora, apriamo qua. Noi qui dentro ci dobbiamo mettere la roba? Switch on the light. Eh? Mazza che luogo ha meno. La cosa strana, ragazzi, è che qui si interagisce col tasto destro del mouse, no? Con il sinistro. Col sinistro prendete la roba. Quindi prendo la TV. Ah, me prendo... me tolgo la roba di valore. E poi la mettete... La mettete... Ok. Pick up on the TV. Sì, però non è... Ah, ok. La dovete mettere proprio precisa. Pick up the armchair. Cos'è un armchair? La poltrona. Ok. Ah, ok. Praticamente porto via prima la roba di valore, tra virgolette. Cioè quella che si può rivendere. Che faccio? Aspetta, aspetta, oh. Non ho capito che sto a fa'. Non ho... non ho capito che sto a fa'. Allora. Ah! Dism... ah, smantella... Cosa? I connettori. Cosa sono i connettori? Smantella i connettori. Cosa sono i connettori? Ah, devo roppere questo? Devo roppere il mobile? E poi? Ah, col cacciavite! Col cacciavite, vedi? Devi smontare tutto col cacciavite. Devo smontare il mobile. Vedi? Ficchi il cacciavite qui, fai qua e là col mouse. Destra-sinistra, ragazzi. Tenete premuto, fate destra-sinistra. E vi smantella tutto. Ho capito, ho capito. Destra-sinistra o su e giù, dipende da come state messi con l'inquadratura. Comunque sia, dovete fare avanti e indietro col piripino. E vi smantella tutto. E adesso tocca togliere queste parti qua. Ok, tutte le parti di legno. A posto. È stato facile, eh? È stato facile. Non potete correre quando avete sti pesi. A posto. L'altra poltrona. Eh, mi sa tocca fare più viaggi, però, perché qua non c'entra più nulla. Ok, complete next step to tutorial. Budget. Come budget? Ah, dobbiamo smontare eccesso. Mamma mia, ragazzi. Sono uno smontatore nato. Io smontatore che sono io. Smontatore che... Ah, ok. Ah, le viti! Oh, porca puzzoletta. Ah, qua dobbiamo comprare un cacciavite. Dobbiamo comprare un cacciavite. E qua? Aspetta, però, qua dobbiamo ancora rimuove delle fregnette. No, allora. Scusate, eh. Dobbiamo rimuove, però, qua la fregnetta, qui. Ok. Chiudiamo. Eh, oh. Aspetta, un attimo. Ok. Ok. Dobbiamo comprare un cacciavite. Dobbiamo comprare un cacciavite. Oh, devina indietro. Dobbiamo comprare un cacciavite alla Warehouse. Quindi dobbiamo ritornare a casa? Ma dai, ma non potevo comprare prima. Allora, da qua. Tools Market. Compriamo il cacciavite. Ah, guardate che tipo di... C'è pure il piede di... Di porco. Abbiamo comprato un cacciavite, quindi dobbiamo ritornare... Sì, vabbè, ma... Potevo pure comprarlo prima, il cacciavite. Allora, ritorniamo sul posto di lavoro. Apriamo. Moco il cacciavite. Eh, 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 Spider-Man. Ecco, adesso posso smontare tutto. Ok. Ticchi, ticchi, ticchi. Ticchi. Oh. Ticchi. Ticchi. Certo, una torcia... Quella da minatore col caschetto. Ticchi. Oh. Ticchi. 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 Ah, ok. Ticchi. 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 A posto. Mamma mia, che smontatore che so, ragazzi. Ma io pensavo che si buttavano giù le case. O forse si buttano giù le case più tardi? Cioè, quando, quando avanzi, poi chiudi il furgone. Open to the truck ramp. C'è aperta la truck ramp. Open. Pick up the fridge. Ah, ok. Equip è la roba più grande. Praticamente mi ricorda quando lavoravo per la monnezza e portavamo via gli ingombranti. Quando facevamo la raccolta degli ingombranti. Era un po' così, ragazzi. Allora, certo non eravamo così forti da in collacce un frigorifero e una stufa a gas da soli. Questo è forzuto, st'uomo. Mamma mia, che forza st'uomo che c'ha. Mamma mia, che forza è quest'uomo. Che forza è quest'uomo. Lavatrice. Mamma mia, questo si incolla la lavatrice da solo, ragazzi. Questo l'ernia non la teme proprio, ragazzi. Ernia non te temo. Hashtag ernia non te temo. Dobbiamo prendere lo scanner. Che è lo scanner? Presse qua. Ah, io devo equipaggiare lo scanner. Ah, vedete? Ogni cosa c'è il suo... Quindi? The bathroom cabinet. Mark. E quindi? Ah, la posso vendere, forse. No. La devo smontare. Desmantelles. Che dice? Desmantelles? Che ha detto? Che cazzo? La devo... Devo desmantellare il coso? Quel mobile? Oh. Ho detto una capocciata. Altro che desmantelles. Ok, togliamo le viti. Desmantelles. Allora. Oh. Desmantelles. Voi ragazzi desmantellate molto? Allora. Ecco, questo mi piace. Tiki, 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 tiki. Sono veloce a fare tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki. Non ho capito quello scanner a che serve. E perché l'abbiamo scannerizzata prima? Questo non capisco. Tiki, 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 tiki. Tiki, 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 tiki. Non capisco perché l'abbiamo desmantellata. Cioè, non ho desmantellata. Dico perché l'abbiamo scannerizzata. Non ho capito. Io pensavo che ti faceva vendere la roba come su House Flipper col fregnetto. Dismantellate upper part of the wall. Cioè, devo desmantellare? Che devo fare? Ma che devo buttarci il muro col cacciavite? Ma che cos'è? Ma che buttarci i muri? Ma a meno che questo è tipo un pannello di legno? Ah! Il rivestimento, il rivestimentino. Avete capitone? Ragazzi, avete il capitone voi? Eh? Avete capitone? Dobbiamo smantellare tutto il muro? Pezzano per pezzano. Ragazzi, pezzali per pezzali. Dobbiamo smantellare tutto pezzali per pezzali. Ma questo che è? Una specie di rivestimento di muro? Sai che cazzarola è sta roba? Ticche. Oh, porca paletta. Ticchiti. Ticchiti. Ma io ve lo butto giù la roba con la mazza. Io spero che ci sia anche la possibilità di usare la mazza su sto gioco. Eh? Oh. Perché mo' non me funziona più? Dismantellet Ok Perché bisogna far bene i cosi gialli Dismantellet Mamma mia Ah ma posso mettere pure La roba mucchiata come mi pare L'importante è che è verde Ecco vedi L'importante è che è verde Che te la fa mettere Yo non ho mai visto i muri questi pannelli comunque tutti tutti tutta dentro e te frega robbie butta dentro alla come va va alla come va va dagli e butta dentro robbie e fossi allora rega a voi pare facile ok poi ancora col frullino che devo fa devo tagliare col frullino da me si chiama il frullino da voi si chiamerà credo smerigliatrice e cose varie la seghe elettrica non so come si chiama da voi mamma mia che spettacolo e poi fa un carico de de roba mamma mia adesso cominciamo a divertisce perché quando si tratta ma sta roba non me la fa raccoglie sono morto ok pensavo che ero morto sotto il peso de use tool use tool e blocca tutto ma sta roba come si leva use tool dismantle dismantle use tool ma siccome qua davanti io c'ho sta roba non vedo niente se non me fa toglie però sti se non me fa toglie sti fregni però io non vedo niente i mattoncini non c'è un modo per prendere sti mattoncini tre no niente un sacco un sacco bello vedete lui qui mi dice di toglie qualcosa ma siccome ci sono i mattoncini davanti non si vede cosa devo toglie lo vedete ci sono i mattoncini vedete mi manda sotto però siccome sotto ci sono i mattoncini non si vede quello che io devo tagliare ragazzi c'è sto cavolo di bug ragazzi dovete far sparire sti mattoncini perché se no noi non vediamo vedete dove clicca a caso a caso praticamente c'è devo clicca a caso non vedo dove devo fa se non togliete sti cazzarola dei mattoncini e vabbè e vabbè e vabbè comunque raga il gioco promette bene però amici miei c'è porca miseria eh dovete far sparire sti mattoncini sotto perché se no noi che giochiamo non possiamo vedere una emerita fava si può dire fava allora non si vede niente si vede una cippa si vede una cippa allora facciamo una cosa posso io vendere sta roba io ho paura che mi si blocca tutto cioè se io adesso vado via perché vedete abbiamo la possibilità di vendere ad esempio ci abbiamo 650 dollari da tutto quello che abbiamo caricato no io ho la speranza che se vado via da qua e poi ritorno magari il gioco toglie sti mattoncini sta roba e noi riusciamo a vedere quello che dobbiamo fa eccoci oh siamo riusciti a togliere meno male va siamo riusciti a tagliare qualcosa siamo riusciti zitti zitti a caso completamente completamente a caso ragazzi pick up the frame logs quindi che vorrà che prendiamo tutto il legno pick up the remind logs ah ok tutto il legno dobbiamo pick up pare datemi un attimo eh dobbiamo pick up pare il legno ok ah qui ce li siamo qui ce li siamo ok dobbiamo pick up pare il legno datemi un attimo eh pick up il legno meno male qua si vede qua si vede eh da sta qua ragazzi qua deve sta più o meno per tagliare mannaggia la miseriaccia ok a caso completamente così mi piace così mi piace a caso ma questa sarà un problema ah ok legno 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 mamma mia quanto siamo forti raga quanto siamo forti abbiamo una forza che che veramente o con il 2 prendiamo il martello ho 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 Distruggi i muri Ok Mo Me Ah ok 3 per il sacco Pick up Oh Monnez Monnez Da me si chiama lo sterro Sta roba qui Mo non so se da voi i rifiuti Di costruzione si chiamano così Se magari è proprio italiano Perché a volte so Ho vinto che sia dialetto E poi mi dicono Ma guarda che è italiano Ok Ok Riempiamo Tutto qua De monnezza Finalmente possiamo togliersi Stramaledetti Mattoncini Ok Ammazza oh Ma si è riempita la busta Così a caso Ah ok Dobbiamo Portare Questo nel camion Ok Poi Close truck Dock 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 Si chiude Sa perché Faccio perché ho messo tutta la roba a cazzo Potrebbe essere ragazzi Ma è un problema Lo sapete Close Ah ok Qua ragazzi Bisogna Cercate Di far entrare tutto Oh Le chiude Eh vuole che ci mettiamo questo Vabbè ma porca miseria Oh Cosa dovrebbe chiude Ok La rampa Abbiamo finito Forse abbiamo finito il primo tutorial Andiamo a vedere Usa il computer Usa il computer per chiude i contratti Contratto Completa A posto A posto Un pack item For the trucks C'è arrivato qualcosa Oltre ai soldi Pronto Che porti Che porti Un lock item From the truck Se non mi fa aprire le porte Qua Open E che devo fare Con sta roba Pick up Che ce devo fare Ah Stocco Pronto C'è Devo mettere la roba Stoccata Letto qui Non sto capendo Qua dice Deve mettere la roba qua Ma non sto capendo Non me ce la mette Qua Non Non sto capendo Ad esempio La monnezza Pick up Allora la monnezza va qua Ok La monnezza va qua La tavolozza Andrebbe qua Me dice lui Ma io qua Ah qua Ok 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 Quindi ogni cosa C'è il suo Allora fatemi vedere Qua Ok ok A seconda della grandezza C'è il suo punto Per Per lo stoccaggio Ok Comincio a capire Non è chiaro Lui Questa è monnezza Ok Prendiamo il legno Ogni tanto La telecamera Sfarfalla Il legno Va qua Place Ah ogni pezzo Ah ogni pezzo De legno C'ha La sua grandezza Ok Il legno Piccolo Dov'ha? Il legno Piccolo Dov'ha? Qui dice il legno Va qua Però Qui le porte Il legno Però Non Non vedo Il ripiano Del legno Piccolo Ah qua sopra Ok Il legno piccolo Va là sopra Questo è sempre Il legno grande Va qua La lavatrice Dove va la lavatrice? Praticamente gestiamo pure i difiuti noi Oh Mi sono persa la lavatrice Ah la lavatrice La mettiamo sui pallet Perfetto In pratica Ci rivendiamo Tutto Chilo che è nostro Mamma mia Non corre Col Col frigo sulle spalle Non corre Raga eh Col frigo sulle spalle Non corre Perfetto Vabbè Questo Qua Pannello piccolo Immobili 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 di legno Immantellati qua Finito A stufa A stufa sui pallet A stufa sui pallet A posto Raga io credo Che abbiamo Finito E adesso Mo che famo E mi dice Che però E' come se qua Non E' come se qua Non fosse Completo Non capisco perché Boh Vabbè E adesso Che c'è da fa Forse devo Tornare in ufficio A fare qualcosa Vende sta roba Vende sta roba Devo Vende sta roba Eh no Non mi dà Il tutorial Completato Raga Mi dà Sti due pezzi Di legno Che sopra qui Non vanno bene Vedete Però Però lì Mi dici Di metterli Cioè Non c'è Altro verde Oh Perché il legno Mi dice Che lo posso Stocca pure Qua ma Ragazzi C'è il problema Dei pezzetti Di legno Verdi Cioè Vicoli Che qua Dice Il legno Può essere Stoccato Qui Però non c'è Il verde Lo vedete Che non c'è Il verde Secondo me È buggato Raga Secondo me È buggato Perché io C'ho Sti due pezzi Di legno E lui Non me li fa Mettere Da nessuna Parte Vedete Vedete Anche se Ruoti Secondo me È buggato Amici miei Vedete Non me lo fa Mette proprio Da Da nessuna Parte E non posso Nemmeno Completare Il tutorial Non posso Nemmeno Completare Il tutorial In teoria Dovrebbe essere Questo Se vanno Per grandezza Vedete Vanno per grandezza Il vano Di carico Di questi Dovrebbe essere Qua Ma qua Non me li accetta Quindi io sono Portato quasi A pensare Che si è Abbuggato Vabbè Raga Io Mi fermo Qua Fatemi sapere Nei commenti Che cosa Ne pensate Spero Che Arriveranno Presto Aggiornamenti Per questo Gioco Che devo Dire Devo dire Ragazzi Ha delle Potenzialità Ha Delle Potenzialità Noi staremo A vedere Aspettiamo Se ci saranno Novità Nel frattempo Lasciate un bel like E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao